Allora io metto il cipolla Che cos'è? Un cigno, beh, questo è un cigno Cubo No, si ridete non fa YouTube ci c'è un sacco Buongiorno a tutti Siamo Gloria Giulia e la nostra ospite Silvia Lei non ha idea di cosa stiamo andando a fare adesso Perché dobbiamo vedere un video Delle Eyes On che spero si pronunci così Non ho idea Mi tratta neanche io La canzone si chiama Secret Story of the Swan Quindi già il nome sembra carino Speriamo ci sia qualche ballettino Insomma armonioso Il nome ricorda un po' qualcosa di elegante Quindi speriamo Quindi Ah proprio, azione Così Se vi piace iscrivetevi al canale Se vi piace iscrivetevi al nostro canale La campanella La campanella Esatto Andrò, vado Con questi cervelli rosa Sì Comunque forse è easy one Easy one Non lo so Basta Fatecelo sapere Come si scrive No, come si scrive Come si comincia No, come si scrive No, come si scrive No, come si scrive Ah Ah Il fatto Il fatto Il fatto Il fatto Sì Qua non fa nulla Non è niente Molta Sì, no, no Sono davvero molte Perché siamo tutte loro Non c'è cosa di ballo No Mi piace questo Sì È fantastico È fantastico È bello E io non le seguo abbastanza per capire chi sono Dove mi look Però sono brava Questa è il Gisù 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 Poi sono molto coordinate Le riconosciamo per il colore dei capelli Eh, poi ti cambia Questa è rossa Onycontact cambia i capelli Esatto Quindi non è più lei Ha retto C'è tanto tempo Sì, sì E poi c'è tanto Non è più una garantia Don't be afraid Qual è il concept Il tempo Il bo Cioè Cosa c'entra con i suoni Il cingolo Io mi aspetta qualcosa di più teatrale Cosa c'è nel mio immaginario Come non è ancora più Finuto Mi sembra distratta Guarda un po' Cosa c'è la coreografia Ah, è carino Non sembra più difficile No Infatti sono No, infatti sono No, infatti sono Io di ballo non capisco Grazie Però sono No, ma anche abbastanza A tempi E se voi mi sarete mie Ma che non siamo No Le piume Wow Eccoci Io Io al posto suo Avrei già fatto cadere tutto La capotata Con la barca Sono caduta in alto Ah, questo è doppio No, no Più tosta In coreografia Anche in contatto dappino Ma poi anche i colori Questa cosa c'è di scenografia E cos'è invece Ha fatto al computer Insomma è complicato Quando si è bravi Queste nuvolette Ok Vabbè Computer Però quanto sono fatte bene Questi cervellini Questi cervellini Rosa Sono rosa Poi ci stanno sempre Tipo loro sono color pesca Beh Non è male Dai sì Non è malvagio Ci faccio Allora Rispetto ad altre che ho sentito Mi sono piaciute più le altre Ma questa è anche la prima volta Che ascolto questa Probabilmente come al solito Ascoltandola più volte Poi dietro il test Non te le separiamo Esatto Quindi lo scopriremo Se ci entrerai Quindi ha provato anche questa Sì ha provato Sì ha provato Ne abbiamo visto di peggio Sinceramente Cioè tra quelle che abbiamo già fatto Queste non si posizionano male No no Assolutamente Tipo mi è piaciuta di più questa Rispetto alle Twice Scusami No No La Twice No La canzone Ma forse anche il video Eh ma io adesso Lo scopriamo così tante volte Che adesso mi piace un sacco Quindi devi ascoltare anche questo Devo ascoltare Sì 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 A meno Come funziona così Ok Vabbè io loro non le conosco Non è Però devo dire che Non sono piaciute Ma soprattutto Come si pronuncia il nome raga? Eyes on Is on Cosa sta? Eyes Eyes one Quell'asterisco Giustamente One Non lo so Aiutateci In realtà io l'avevo anche letto Ma Non te lo ricordi Ho l'alzheimer Quindi non mi ricordo niente In buona compagnia Ragazzi mi dispiace È utile che io cerco di mettere informazioni In il cervello Se noi non rimangono E vabbè Comunque Se vi è piaciuta la vostra reazione Iscrivetevi al canale Mettete mi piace E Seguiteci E consigliateci Qualche altro video Da reagire Relazionale Vabbè Quello Se ci volete vedere ancora Fatecelo sapere Sì Se volete anche Silvia Ancora Qui tra noi Anche se lei non vuole Fatecelo sapere Esatto Va bene Ciao Ciao Ciao